C'è la vigilia di una partita importante che può regalare la terza vittoria consecutiva alla Paffoni contro una squadra in un grande momento di forma e a reduci da cinque successi in fila. È uno spareggio play-off adesso. È una partita fondamentale per noi, primo perché allunghiamo definitivamente dalla zona calda della classifica, dalla zona bassa della classifica e secondo, come dici tu, perché potremmo riaprire delle percentuali di accesso ai play-off. Dobbiamo rimanere umili però, l'ho detto alla squadra, perché è una partita a trabocchetto, le classiche partite a trabocchetto che vieni da una bella vittoria fuori casa, giochi in casa e fai lo scivolone. Sarà una partita dura perché è una squadra in forma, in formissima, battuto Livorno mercoledì. Sono gasati, hanno tanti punti nelle mani, hanno giocatori molto esperti sul perimetro e giocatori frizzanti che possono attaccarci uno contro uno. È una squadra simile a Desio e noi abbiamo fatto tanta fatica con Desio e quindi sarà una partita molto difficile. Speriamo di nuovo in un bel apporto del nostro pubblico che ci ha dato una mano nella mia prima partita contro Desio. Speriamo che vengano, ci incitino, perché i ragazzi lo sentono e hanno bisogno di tutti.